amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp ragazzi la settimana scorsa avete visto un video dove ho preso una bellissima carpa pensavo di aver finito la sessione e quindi ho interrotto il tutto ma in realtà poi mi è venuto a trovare un'altra carpa quindi questa è la continuazione del video precedente ma prima sigla buongiorno a tutti ragazzi come vi ho detto prima della sigla questa è praticamente la continuazione del video precedente ero già contentissimo era presto era prestissimo mi sembrava già tardissimo perché fa veramente caldo 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 quindi in realtà la prima carpa penso averla presa verso le sette sette e mezza se non ricordo bene e però c'era un sole una luce che pensavo fosse già mezzogiorno luna quindi ero già pronto a far su a tirare su tutto in realtà poi non so non consio non mi sono reso conto ho avuto una seconda partenza e quando sono andato a vedere l'orologio nella seconda partenza erano le 9 9 20 neanche le 9 e mezza alle 9 e mezza ragazzi fa un caldo faceva un caldo adesso vi sto vi sto parlando sono le 10 e mezza sembra sembrano le due del pomeriggio un caldo estremo sono i primi caldi quindi non siamo abituati una fa tremenda a proposito di questo mi raccomando quindi tutte le volte che andate a inguadinare una carpa un consiglio che vi do il materassino non tenetelo al sole tenetelo riparato eventualmente all'ombra dell'auto dalla parte dove c'è l'ombra dell'auto quindi dietro un albero comunque in una zona dove riparato poi eventualmente per far la foto il video così potete anche metterlo al sole in quel momento ma non tenetelo sempre esposto al sole perché sennò poi arriva la plastica il pvc arriva a temperature che sono scotta proprio quindi andate a cuocere a cuocere la carpa fondamentalmente quindi prima di adagiare la carpa sul materassino materassino quindi tenuto all'ombra in maniera tale che rimane fresco o comunque non bollente gli andate a mettere dell'acqua fresca di canale poi andate ad adagiare la carpa sul materassino bagnato e a quel punto andate ad idratare di nuovo la carpa con con l'acqua questo direi che sono è l'abc il fondamentale per trattare bene la carpa e appena avete la possibilità andate a rilassare subito in acqua quindi non non tenetela sul materassino per tempi lunghi se non avete nulla pronto fate la mettete nella sacca di contenimento la tenete nella sacca di contenimento nell'acqua in maniera tale che lei non non si agita più di tanto e riesce a respirare eventualmente non avete una sacca perché è già occupata x motivi le siete dimenticata non ce l'avete perché costa troppo la tenete all'interno del guadino sempre in acqua mi raccomando in acqua così rimane fresca e riesce a respirare naturalmente perché fuori dall'acqua hanno un'autonomia limitata le carpe rispetto ad altri pesci è meno limitata ma è sempre limitata seconda cattura nella canna centrale la canna centrale che avevo detto nel video precedente vi invito quindi a riguardarvelo che così vi vi rinfresco comunque un attimino la memoria video precedente avevo preso una carpa sulla canna rossa quindi quella a lato in un punto strategico utilizzando quello che al momento secondo me è il rig più più performante in questo tipo di acqua che è il classico blowout rig quindi quello col tubicino che tiene fermo la rig con un omino di neve praticamente una boiless affondante gli vado a tagliare il pezzettino sopra in maniera tale che la vado a squadrare gli metto mezza boiless pop up rosa e così rimane bilanciata e bella bella veloce ad entrare in bocca la carpa tutto con il malloppone di pva questa carpa qua invece l'ho presa con la canna centrale la canna centrale vi avevo detto nel video precedente che sto utilizzando una sorta di piccolo esperimento dove utilizzo uno spinner rig abbastanza corto mi sembra sui 13 15 centimetri con un amo bello grande è un amo del 2 uno spinner della corda del 2 quindi bello generoso per essere utilizzato con una wafer da 15 millimetri della main line tutto condito con anche il dip della della main line il monster crab se non erro e allo stesso tempo poi sto utilizzando delle boiless come pastura dentro a sacchettino alla retina in pva due boiless più uno stringerino nel nastro in pva da tre boiless e tutto poi condito con il garlic di mtc bates come dip questo mi ha dato ragione sulla seconda cattura una partenza è stata veloce cioè nel senso pensavo fosse un siluro di la verità perché è partita tutta di lato la canna si è andata ad ingroppare addirittura l'altra canna quindi è proprio e andava 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 ma le frizioni sono praticamente chiuse quindi quasi chiuse ecco quindi andava andava quando sono andato a ferrare ho visto che era sotto a un rametto ma niente niente di che qui fortunatamente non si è non si è impigliata nessuna parte e poi pian pianino è venuta su è andata un po di qua un po di là sotto la canna cioè le ha fatte un po di tutto era era veramente scatenata questa carpa si vede che al momento stanno veramente bene sono in piena forma e come vi ho detto anche nella prima carpa fanno delle partenze razzo tipo ostellato quindi super mega potenti e arrabbiate bella bella anche questa sì mi fa piacere avere catturato su quella canna lì perché quello spinner lì è un po particolare avendo come vi ho detto in un video precedente un doppio un doppio attacco ovvero avete sul lamo due perline di gomma che vi vanno a tenere fermo il la girella questo per permettere come ve l'ho detto un'altra volta che quando ho visto una wafer non le pop up che le pop up l'amo rimane così e rimane in su ma quando ho visto le wafer che tendono ad andare in fondo al gambo dell'amo quindi non sulla punta o su queste estremità ho preferito usare una tecnica del genere al momento sta andando bene ho avuto una bellissima allamata nel blow back il top proprio qua sotto in mezzo che era impossibile da slamare questa leggermente più di lato nella bocca della carpa ma sempre allamata perfettamente e quindi direi che è andata alla grande in entrambi i casi per ora anche anche questo è sicuramente un ottimo un ottimo aggancio eccoci come sempre contentissimo suona e da un po che suonano gli avvisatori spero di riuscire a farvi vedere anche questa carpa lì c'è un po di movimento ma va bene allora sempre per un discorso che fa veramente molto caldo se troviamo una zona all'ombra la slamiamo e gli facciamo una bella foto all'ombra così e il materassino lo tiriamo fuori solo all'ultimo momento così non diventa rovente la plastica la gomma la plastica ok bagniamo ancora molto bene la nostra carpetta e ora ragazzi è ora di farvela vedere nervosa è questa è partita anche questa arrabbiatissima ora sono veramente super mega in forma arrabbiate e chissà ora provo a tenerla verso di me eccola qua ragazzi bellissima anche questa bellissima è pronta per andare in acqua subito eccoci pronti per il rilascio vedete eccola qua è pronta andata brava bene ragazzi direi che si è conclusa la sessione questa volta a meno che non ci siano altre partenze ma eventualmente farò un altro video se siete appassionati di carfishing come me mi raccomando iscrivetevi al canale quindi iscrivetevi attivate la campanella in maniera tale che rimanete sempre aggiornati ogni venerdì alle 18 un nuovo video e alla prossima ciao 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 ciao